Santa Croce è un luogo che da secoli incarna gli ideali religiosi e civili in cui una comunità si è riconosciuta. Da prima quella cittadina, poi la comunità nazionale e infine il mondo ha trovato in Santa Croce un proprio punto di riferimento. Artisti straordinari hanno dato corpo a questi ideali e a questi valori creando un patrimonio estetico, artistico di straordinaria importanza. In un momento così difficile abbiamo deciso di aprire le porte di Santa Croce a tutti e restituirgli la sua dimensione di luogo della comunità. Potete quindi venirci a trovare il sabato e la domenica, siamo aperti gratuitamente. Vogliamo che tutti quelli che amano questo luogo possano visitarlo e conoscerlo in piena sicurezza ma anche con un rapporto coinvolgente con il nostro patrimonio. Quindi vi aspettiamo a Santa Croce.